Ebbene carissimi amici, si parla ancora di software, delle vincite continue che si ottengono dai miei programmi, Mr. Numeretto, un software apprezzatissimo che regolarmente paga delle bellissime vincite, quindi estratti determinate da Ambisecchi, 84-72 nell'estrazione proprio del 20 di marzo, se non sbaglio, si, del 20 di marzo, bellissimo Ambosecco, un software molto affidabile che vi consiglio, Spia Magica, un software che gioca su unica ruota di gioco, Ambosecco sempre nell'estrazione del 20 di marzo, 36-47 a Roma al sesto colpo, unica ruota, unico estratto, 8 ambi e 2 abbinamenti per Terno, quindi uno dei software più apprezzati e più efficaci della mia collezione insieme a Spia Mestosa, Spia Suprema, che è un software molto particolare perché gioca, elabora una previsione ad ogni estrazione e la gioca soltanto due colpi, 17-90 Firenze, secondo colpo di gioco, quindi un altro bellissimo esito, un software che vi consiglio di grande investimento, gioca sempre un estratto, 4 ambi sulle ruote e i due abbinamenti per Terno anche uniti in settina e infine tutti per uno con l'Ambosecco 36-47 sulla ruota di Roma, quindi cari amici come vedete i miei software continuano costantemente a produrre delle grandi vincite, chi fosse interessato a uno di questi o un altro in particolare può contattarmi all'indirizzo email che metto in descrizione al numero via Whatsapp oppure accedere alla promozione totale di tutti i miei software disponibili al momento, cosa vuol dire? Avendo tutti i software, come dico sempre, potete confrontare le varie previsioni e magari trovare delle convergenze, in quel caso giocherete delle previsioni molto molto affidabili, quindi mi raccomando non perdete i miei software perché sono prodotti che vi danno delle previsioni veramente molto affidabili per andare a vincere. Per adesso saluto a tutti, Mister Sbancolotto.